E' un'altra cosa che mi hai parlato, mi hai parlato, mi hai parlato, mi hai parlato con qualche ora. Quando mi dici un favore, ero bello politico, ma io non c'è il guai. E ora che si è giocato, si è giocato nella mafia. Bravo, avete capito? Quando io sono in mafia, i certificati della mafia non me lo possono fare. E prima mi scriveva qui all'acqua, che lei paghi i medici, non posso essere giocato. Perché i certificati della mafia è bloccato. Capito? Io ho fatto un po' per te, per te, per te. E poi faccio un po' per te riscolto, perché quando mi hanno creato... ... la mia ammiglia sono chiamata e poi quando mi hanno creato la mafia. Ma come, ovviamente, c'è un po' un po' problema. E poi ci passiamo a leggere il suo nome Marika e la mafia. Oppure, tutto stai a fare il TPU, un po' di la quata. e invece siamo e qui c'è detto no, non sono conosciuto come te, non c'è il nostro urbano e poi quelle che indicavate non è che non c'è mi chiede su me quei miei la parola è più grande noi dobbiamo fare un lavoro all'unfog all'unfog poi devi andare a parlare su signori amici ma io la parola poi come detto su pera diciamo non perde la situazione è questa o cosa sa lei o no si stiamo a un problema facciamola veramente facciamola veramente facciamola veramente non mi puoi dire di questa maniera mia a me chiedere un pv culo veramente tutta l'estate ma io non l'ho solo con tia io l'ho con tutti fai come ti ha detto perché è un bar e ora io lo cedo un tavoglio in pizzo perché c'è i sei cugioni pieni non solo con tia con tutti quanti fai come ti ha detto però 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 ma mi hai fatto licenziamento perché non mi posso licenziare ma io ti faccio però che può però può pagare i 1500 euro per me per un problema può pagare i 1500 euro che ci vuoi pagare che vuoi pagare come vuoi pagare i 1500 euro ci sono 1500 euro per chi è perché sì da me amate licenzi entri voi al massimo domani amate licenzi non mi tenere il telefono dopo ti spieghi va bene grazie